Musica Flavia Avvita del Marketing di Avvita, l'azienda campana che sempre presenta i rivendi di questo tipo che però ha supporto alle sue iniziative internazionali con una politica di sviluppo e di rapporto con i grandi player del mondo dell'aerospazio. Siamo alla fine del salone ormai, stiamo per tornarcene a casa. Un bilancio sull'iniziativa e soprattutto quali risultati e quali sono le sue aspettative dopo tre giorni di intenso lavoro che ci ha visti tutti impegnati nell'area parigina. Allora innanzitutto è stata una fira molto importante. A Bete come ogni anno e come in questo caso ogni due anni ci tiene a partecipare a fiere del settore in quanto insomma seguiamo la filosofia dell'internazionalizzazione e questa è una delle fiere probabilmente più importanti del settore per l'appunto. Il bilancio insomma è che ad oggi noi al terzo giorno quindi alla fine di questo evento abbiamo fatto diversi appuntamenti, speriamo insomma che ci possa essere il risultato sia proficuo e abbiamo avuto modo di incontrare clienti già acquisiti, probabili clienti ma anche fornitori. Quindi è un modo anche questo per continuare a farci vedere e continuare ad avere contatti con il mondo intero. A Bete di fronte alle difficoltà del mercato domestico guarda al mondo e quindi guarda a quei settori dove maggiormente sta crescendo la domanda e quindi l'offerta di un'azienda innovativa come voi. Qui alle Boucher avete trovato gli interlocutori giusti e quali sono le aspettative? Sicuramente abbiamo trovato gli interlocutori giusti in quanto è una fiera ricca, ricca di aziende e ricca di opportunità. Quindi diciamo il lavoro più grande adesso è quello di cercare di approfondire quelli che sono i contatti che abbiamo preso in questi giorni. Quindi siamo positivi e continuiamo a lavorare, continuiamo a fare quello che stiamo facendo con grande passione e con grande determinazione. A questa rassegna la Regione Campania è presente con una missione. Voi siete parte di questa missione, una valutazione ce la deve dare. Allora noi continuiamo a ringraziare la Regione per tutto ciò che riesce a fare, tutto quello che fa per le aziende campane. ovviamente il grande lavoro bisogna che lo facciamo anche noi. Loro ci danno una mano, il resto dobbiamo farlo noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.